Domani alle 18 ci sarà la presentazione dei candidati di potere al popolo di Eboli presso l'Hotel Grazia. Nel collegio uninominale c'è Dina Balsamo di Eboli, insegnante da sempre impegnata nella politica attiva. Oggi segretaria provinciale del PC. Ha partecipato a tutte le principali battaglie in difesa di beni comuni, ambiente e democrazia. In particolar modo contro la buona scuola. Capolista al collegio plurinominale al Senato Campania 3 e Massimiliano Voza, dirigente medico di cardiologia che ha partecipato a missioni internazionali, il Medio Oriente, Kurdistan, Turchia, Iraq, Siria, Israele, Palestina e Libano, in Donbass, in Chiapas, come osservatore internazionale e medico. Ha guidato una spedizione di aiuti umanitari verso Kobane e con la mezzaluna kurda rossa ha attivato il primo ambulatorio di cardiologia pubblico. Anche da sindaco di Santomenna ha sostenuto politiche di sviluppo sostenibile e redistribuzione della ricchezza. Inoltre saranno presenti Davide Trezza, capolista al collegio plurinominale della Camera, tra i fondatori dello Spazio Pueblo, e l'ambientalista Claudio Caraffa, candidato nel collegio uninominale del Senato di Battipaglia.